Shaila gatta protagonista del primo triangolo del grande fratello Sia Lorenzo Spolverato che Javier Martinez, sono, pazzi, dell'ex velina che, durante una chiacchierata con Luca Calvani, ha fatto una confessione Il primo triangolo del GF è servito. Shaila tratta da Javier, ma bacerebbe Lorenzo Shaila gatta, è una delle protagoniste assolute di questo grande fratello Shaila gatta protagonista del primo triangolo del grande fratello Sia Lorenzo Spolverato che Javier Martinez, sono, pazzi, dell'ex velina che, durante una chiacchierata con Luca Calvani, ha fatto una confessione Shaila gatta è una delle protagoniste assolute di questo grande fratello Sia Lorenzo che Javier provano dell'interesse nei suoi confronti Lei, dopo alcuni giorni, sembra avere le idee chiare, o quasi Durante una chiacchierata con Luca Calvani, ha svelato il suo interesse per Javier Martinez E, tallonato, a sua volta da Elena Prestes Ecco il video, tuttavia, nonostante l'interesse, bacerebbe Lorenzo, in amicizia, dice lei Come si concluderà questo triangolo?